Buongiorno da Edo, oggi è puntata interamente dedicata all'intelligenza artificiale. Dici, vabbè, che novità è Edo? Ma è il mio podcast, faccio quello che mi pare, che volete? Quindi, la prima news tra l'altro è molto grossa, è importante, va seguita con attenzione. Tra l'altro oggi avrei anche parlato di altro, perché avrei parlato per esempio della release 4.0 di Astro, del framework Astro, quindi avrei elencato le novità, ma non lo farò. Perché non lo farò? Perché ne abbiamo parlato in anteprima mondiale, world premiere, in live ieri pomeriggio, con Emanuele Stoppa, che è uno che lavora al core di Astro. Quindi, se volete dettagli su tutto quello che contiene di frizzante la release 4 di Astro, andate su Continuous Delivery, seguitevi la puntata che tra l'altro è uscita in podcast proprio stamattina, 5, no? 6 dicembre, e vi seguite tutto quello che c'è, tutto quello che contiene questa nuova release, anche con un certo dettaglio tecnico dato proprio da Emanuele. Quindi, non ne parlo io, andatevi a vedere la puntata, a seguire la puntatona di Continuous Delivery per queste informazioni, e basta, io direi che passiamo direttamente alle news sull'AI, che sono abbastanza croccanti. E vi dicevo che questa prima notizia sulla intelligenza artificiale è abbastanza importante, perché ieri è stato costituito, o è stata annunciata la costituzione, di un gruppo internazionale, un consorzio di aziende, corporation e università, centri di ricerca, proprio sull'AI, che si chiama AI Alliance. Insomma, poco creativo è questo nome, però insomma, per far capire di cosa si parla, no? AI Alliance. Sono circa 50 organizzazioni e vogliono promuovere l'AI open source aperto. Quindi, tra queste, tra i promotori, insomma, di questa iniziativa, ci sono IBM e Meta, diciamo, tra i nomi più prominenti a livello corporate, ma ci sono anche AMD, Intel, la NASA, il CERN, l'Università di Harvard. E l'obiettivo sembra essere avanzare la open innovation, quindi l'innovazione aperta, e la scienza aperta, open science, nell'intelligenza artificiale. Quindi, promuovere alternative al mercato chiuso, ecco, che c'è nell'AI attualmente, quindi non vengono citati esplicitamente, ma gli avversari, insomma, a questo gruppo appaiono essere proprio OpenAI, Microsoft, quindi, e Google. Quindi, OpenAI, infatti, non è parte di questa Alliance, e neanche Microsoft, e neanche Google, quindi pare esserci proprio una contrapposizione, no, tra questi due modi di vedere il mercato, di vedere la ricerca, quello aperto, che vuole essere questo di AI Alliance, e quello invece chiuso degli avversari, insomma, degli altri. Infatti, anche Meta, che è tra i promotori di questa iniziativa, ha distribuito in maniera più o meno aperta il suo modello Lama 2. Dico più o meno aperta perché, certo, è un modello che può essere aperto, studiato, se ci possono fare ricerca, e il codice è aperto da quel punto di vista, però non è in realtà open source la licenza con cui viene distribuito Lama 2, ne avevamo già parlato, insomma, non è possibile creare prodotti e distribuirli commercialmente basati su Lama 2, perché la licenza invece non lo permette. Però, a di là di questo, insomma, è un modello che può essere aperto, letto, studiato, insomma, questo è un po' l'intento, no? Permettere una ricerca libera. E quindi, il presidente del Global Affairs di Meta, che è Nick Clegg, ha dichiarato in uno statement, pensiamo che sia meglio che l'AI sia sviluppata apertamente, quindi più persone possono accedere ai suoi benefici, costruire prodotti innovativi e lavorare sulla sua sicurezza, la sua safety. E quindi, questo è il sito di AI Alliance, per chi sta guardando, un sitino che potete andare a vedere qual è la mission, qual è la vision, c'è anche una bella palla, un cerchio che vi insegue per tutta la navigazione, non so perché, e c'è la mappa dei membri di AI Alliance, è difficile anche da pronunciare, AI Alliance Members, quindi potete vedere un po' come è distribuita sul globo la partecipazione a questo gruppo, per la maggior parte sono enti, soggetti americani, però ce ne sono anche in giro per il mondo. E curiosità, naturalmente, sono andato subito a vedere se c'era qualcosa in Italia, beh, c'è, ma è una cosa di cui non conoscevo l'esistenza, ma sarà colpa mia, magari chi mi sta ascoltando conosce, voi conoscete, c'è un centro di ricerca in Italia che si chiama International Center for Theoretical Physics, quindi centro di ricerca per la fisica teorica, che ha sede a Trieste. Infatti, nell'elenco che voi potete vedere, adesso io qua sono sulla news su Ars Tecnica, però anche su tutti quelli che ne parlano, insomma, citano i membri che hanno fondato e che adesso fanno parte di questo gruppo, ci sono, naturalmente, nomi noti come Hugging Face, Lang Chain, l'Università di Berkeley, dell'Illinois, abbiamo detto della NASA e del CERN, c'è Linux Foundation, ci sono Oracle e Red Hat, che tra l'altro è strano vederli menzionati insieme in un gruppo, Oracle e Red Hat, comunque c'è Sony, c'è Stability AI, e c'è questo International Center for Theoretical Physics, quindi ICTP, che tra l'altro è intitolato a Abdus Salam. Io, nella mia enorme ignoranza, non conoscevo questo centro, non conoscevo neanche Abdus Salam, che poi sono andato a fare delle piccole ricerche, e è un premio Nobel per la fisica, proprio nel 79, a cui questo centro è intitolato, perché lui l'ha fondato, assieme a fisici italiani, e ha appunto sede a Trieste, tra l'altro promuove la ricerca internazionale, cooperazione con i paesi, insomma, è un centro di eccellenza in Italia, a Trieste, e io non lo conoscevo, e sono anche andato a vedere un po', se c'erano delle dichiarazioni di membri di questa fondazione, cioè di questa, non so come chiamarle, questa consorzio, alleanza di entità, e ho trovato il blog post di Red Hat, che riporta un po' di dichiarazioni, e c'è quella di Atish Dabolkar, che è l'attuale direttore di, appunto, i CTP, come sono provinciale, madonna che vado a cercare subito le cose italiane, mi piace così, allora, la dichiarazione del director di CTP dice, l'ICTP è, insomma, ha piacere essere parte di questa comunità di ricerca internazionale, e che include molti player, big player in questo campo, e facendo parte di questa alliance, ci assicureremo una, che il nostro grande network internazionale di scienziati, ecco, abbia accesso alle ultime innovazioni sull'AI, il training, la governance, senza l'ostacolo di barriere, di confini geografici, quindi vedete anche già la vocazione internazionale, senza confini, di Atish Dabolkar, che anche lui, non avevo idea della sua esistenza, di chi fosse, sono andato a vedere su Wikipedia la sua pagina, lui è un fisico teorico indiano, ed è pazzesco, cioè, ha contribuito in modo notevolissimo, alla ricerca internazionale, sulla fisica, sulla teoria delle stringhe, e ha inaugurato lo studio dei soli toni super simmetrici nella teoria delle stringhe, che sono, a quanto pare, un elemento super importante nello studio dell'entropia quantica di Buchi Neri, ha ricevuto premi e membro di organizzazioni in tutto il mondo, insomma, è un fisico pazzesco, e è direttore di un istituto che sta in Italia, a Trieste, io non ne sapevo niente, come mai? Voi lo sapevate? Adesso lo sapete, insomma, abbiamo un'eccellenza in Italia, e questa eccellenza è anche membro della AI Alliance, che vi volevo riportare oggi. Vabbè, vado un po' avanti a completare questa news, e dice, sempre sull'articolo di Ars Technica che ho voluto prendere per riferimento, dice, in aggiunta alla promozione della ricerca sulla AI aperta, da notare che AI aperta, purtroppo è anche il nome del principale competitor di questa alliance, perché AI aperta in inglese si dice Open AI, ma va bene, l'AI Alliance ha varie iniziative per far avanzare l'AI in un modo che sia responsabile, in realtà responsible, forse non si deduce esattamente con responsabile, però insomma, avete capito il senso. E questo include lo sviluppo di benchmark e tool per le valutazioni, gli standard, l'avanzamento nel hardware accelerator, quindi nell'hardware che va a calcolare poi l'AI, e nel supporto della ricerca globale sull'AI, quindi va a delineare tutti i soggetti che prediligono un approccio aperto, collaborativo a questa ricerca e invece quelli che vanno a fare advocacy sull'approccio contrario, quindi chiuso e proprietario. Abbiamo capito come si sta contrapponendo, come si sta delineando il mercato. Per completare, prendo qualche altra notizia da The Register che ci dice in un articolo intitolato The World Forms AI Alliance to Promote Open and Responsible AI, se volete cercare l'articolo che ha molto di più di quello che vi dirò adesso e vi leggo solo questo. Un obiettivo di questa community è informare il pubblico quindi e i politici sui benefici, i rischi, le soluzioni e le regolazioni sull'AI che sembra come se appunto i membri di AI Alliance vogliano un po' fare del lobbying, influenzare i governi, il pubblico sull'AI e sulla narrativa, su tutto quello che la circonda. E questo potrebbe essere, dice l'articolo, soprattutto per una preoccupazione del pubblico che sta crescendo sull'AI e i suoi usi. Infatti c'è citato un sondaggio dell'Ada Lovelace Institute in UK che ha rilevato che più del 50% del pubblico intervistato dice che è abbastanza preoccupato degli usi dell'AI con le macchine a guida autonoma e le armi autonome citate come la minaccia maggiore, la preoccupazione maggiore. Ha trovato anche questo sondaggio che più di metà hanno delle preoccupazioni riguardo al fatto che i lavori, insomma le professioni vadano sempre più spesso a supportare appunto l'intelligenza artificiale a discapito dei lavoratori umani e che questo possa portare un abbassamento della qualità appunto in aree critiche come quella medica cioè la diagnosi di condizioni mediche. Inoltre anche molti sono preoccupati sulla responsabilità che si dovrebbe attribuire a chi poi fa degli errori usando queste tecnologie quindi abbiamo parlato ovviamente di campo medico ecco un tema importante è quanto l'uso dell'AI potrebbe influire sulla ricerca di responsabilità in caso di errori ovviamente di diagnosi oppure di operazioni ecco è un tema abbastanza dibattuto e infine appunto si parla di questa ricerca di questa creazione del catalogo di tool per sicurezza e affidabilità quindi immagino magari un landscape di tool un po' sulla falsa riga di Linux Foundation e quindi la costruzione anche di un ecosistema di foundation model aperti. In conclusione in articolo si citano i grossi nomi in AI che sono mancanti in questa lista e ovviamente se si parla di hardware uno dei più prominenti che proprio è assente è Nvidia che non è un membro al pari naturalmente di OpenAI e Microsoft quindi questa è la notizia AI Alliance trovate tutto su thealliance.ai per vedere il loro sito lo statement la mission tutto quello che dovete sapere in più e noi naturalmente seguiremo gli sviluppi prossimamente e nuovi sviluppi sono arrivati proprio sulla vicenda che abbiamo seguito più da vicino in questi ultimi mesi cioè la rimozione di Altman dal board di OpenAI qui ho trovato su un articolo di Aztecnica un riferimento a un report a un lungo articolo scritto sul New Yorker che parla proprio di una possibile motivazione sulla rimozione di Altman quindi abbiamo un indizio importante l'articolo di Aztecnica parte appunto dicendo che la mossa del board era stata giustificata pubblicamente dicendo che Altman non era stato candid quindi non era stato trasparente onesto nelle sue comunicazioni con il board e poi fa riferimento a questo pezzo sul New Yorker a firma di Charles Duhigg questo pezzo lo trovate sul punto New Yorker si intitola The Inside Story of Microsoft's Partnership with OpenAI quindi non tratta direttamente soltanto della fase in cui Altman è stato allontanato ma parla un po' della storia di tutta la storia della relazione tra Microsoft e OpenAI ed è un pezzo lunghissimo e completo cioè fate conto che se voi lo ascoltate con il lettore automatico The New Yorker tutta la lettura del pezzo dura un'ora quindi immaginate quanto è lungo non ve lo posso stare a leggere tutto ma vi consiglio di andarlo a vedere perché è proprio un pezzo di giornalismo fatto bene io vado però a leggervi esattamente il punto in cui si parla della possibile motivazione della rimozione di Altman dal board e dice questo estratto dice questo alcuni membri del consiglio di amministrazione di OpenAI avevano trovato Altman un operatore inquietantemente scivoloso una metafora possiamo immaginarcelo qui siamo a un giorno dopo la rimozione di Altman dal board e dice per esempio all'inizio dell'autunno aveva affrontato un membro che è Helen Tonner direttrice del centro per la sicurezza delle tecnologie emergenti dell'università di Georgetown per aver collaborato alla stesura di un documento di un paper che apparentemente criticava OpenAI per aver alimentato le fiamme del clamore sull'AI il paper a cui si sta riferendo è questo Decoding Intentions lo trovate sul sito appunto di CSET dell'università di Georgetown tra gli autori c'è appunto Helen Tonner il sottotitolo è Artificial Intelligence and Costly Signals ma insomma andiamo andiamo avanti dice Tonner si era difesa e anche se in seguito si era scusata con il CDA per non aver previsto che come il documento sarebbe stato percepito dice Altman iniziò a contattare individualmente altri membri del consiglio di amministrazione per sostituirla e quando questi questi membri hanno confrontato gli appunti sulle loro conversazioni hanno ritenuto o almeno alcuni hanno ritenuto che Altman li avesse travisati per fargli sostenere la rimozione di appunto Tonner e dice un testimone li metteva l'uno contro l'altro mentendo su ciò che pensavano gli altri questa è una persona che non viene citata però appunto ha parlato con il giornalista e aggiunge inoltre cose del genere accadevano da anni e dice una persona che ha familiarità con il punto di vista di Altman ha detto che gli riconosce di essere stato un pugno di ferro nel modo in cui ha cercato di far rimuovere un membro del consiglio ma aggiunge anche che non ha tentato di manipolare il consiglio vedete che aggiunge anche questa parte l'abilità di Altman di controllare le informazioni manipolare le percezioni in trasparenza e in segreto ha convinto i venture capitalist a competere l'uno con l'altro investendo in varie start up quindi gli riconosce questa capacità di manipolare un po' le persone e poi dice i membri del board infelici pensavano che la mission di OpenAI gli richiedesse di essere vigilanti verso un AI che potrebbe diventare troppo pericolosa e pensavano che questo lavoro questa mission non sarebbe potuta essere possibile con Altman alla guida poi un'altra frase abbastanza forte dice è difficile dire se i membri del board erano più spaventati dai computer senzienti o dalla ribellione di Altman insomma questo chiudo qua ma vi consiglio di andare a vedere appunto questo pezzo ripeto si intitola The Inside Story of Microsoft's Partnership with OpenAI quindi consiglio di dare una lettura e questa potrebbe essere anche la lettura alla situazione della cacciata di Altman da OpenAI non c'è ovviamente ufficialità però si inizia un po' a capire di cosa si stava parlando e siccome vi dicevo che oggi parliamo solo di AI in chiusura di puntata vi segnalo una ricerca interessante di cui parla l'MIT Technology Review il sito MIT Technology Review e si intitola AI Carbon Footprint Is Bigger Than You Think non piacevole questa questa ricerca si parte dal da quello che sta succedendo a Dubai i world leaders sono a Dubai per il COP28 quindi per parlare del clima ma c'è una cosa dice l'articolo di cui le persone non stanno parlando abbastanza e cioè il Carbon Footprint dell'AI e un pezzo della ragione è perché le Big Tech non condividono il Carbon Footprint del training e dell'uso dei modelli e non abbiamo dei modi standardizzati per misurare le emissioni di cui l'AI è responsabile quindi mentre sappiamo o immaginiamo che allenare i modelli è estremamente inquinante non sappiamo quali sono le emissioni attribuibili all'uso dell'AI cioè questo pezzo finora era mancante ecco dice finora perché in una storia che poi è stata pubblicata anche in un altro pezzo sempre delle MIT Technology Review ecco c'è appunto una ricerca e dice generare un'immagine richiede tanta energia quanto una ricarica completa di uno smartphone questo è uno studio pubblicato da ricercatori di Hugging Face e della Carnegie Mellon University e questo è ancora più impattante sui pianeti perché le tech company stanno integrando questi modelli così potenti in tutto praticamente dalla ricerca online alle email e queste cose vengono usate miliardi di volte ogni giorno ricerche come queste sono molto importanti per capire concretamente i numeri riguardo le emissioni quindi la nuvola in cui pensiamo che i modelli AI vivano in realtà è molto tangibile questo lo dice la dottoressa Sasha Luccioni che lavora appunto a Hugging Face e ha guidato questo lavoro se noi abbiamo e vediamo questi numeri possiamo iniziare a pensare a quando utilizzare un modello più potente se necessario oppure se magari possiamo andare su un modello più semplice più piccolo magari più appropriato a un uso che dobbiamo fare in quel momento e la ricerca di Luccioni va a evidenziare anche che le emissioni legate all'AI variano a seconda di dove i data centers si trovano quindi il carbon footprint di AI in luoghi dove le energie sono ottenute più da fonti rinnovabili come ad esempio la Francia ecco è inferiore rispetto a utilizzare gli stessi data center in posti dove invece c'è una fortissima dipendenza dalle energie dalle sorgenti fossili come in alcune parti degli Stati Uniti questa è un po' la notizia sappiate ma lo sapevamo immaginavamo che allenare le AI fosse una cosa molto dispendiosa impattante sul pianeta dal punto di vista del carbon footprint ecco ora pensiamo anche che ogni singolo uso di una API o di una generazione di un'immagine di una ricerca di una traduzione fatta con modelli AI ha un impatto notevole sul carbon footprint quindi magari ci possiamo pensare un po' di più ho davvero finito vi lascio soltanto due link in chiusura se siete interessati e volete andarveli a spulciare uno è Common Voice lo trovate a commonvoice.mozilla.org ed è un'iniziativa appunto di Mozilla per andare ad allenare sempre la AI sui modelli invece di riconoscimento della voce del parlato e in questo sito Mozilla cerca di raccogliere quanti più campioni di voce possibile quindi voi potete andare a aiutare Mozilla nel raccogliere campioni audio della voce che legge del testo quindi vedete che c'è una divisione in due parti speak e listen su speak andate a donare la vostra voce quindi andate proprio a leggere qualcosa se cliccate su speak trovate degli snippet di testo da leggere registrandoli con il vostro microfono e glieli donate a Mozilla ai ricercatori di Mozilla che poi vanno appunto a effettuare queste ricerche se invece andate su listen troverete degli snippet di testo e un play usate play che vi fa sentire qualcuno che li ha letti e potete dire a Mozilla se questa cosa è ok o non è ok rispetto al testo scritto quindi aiutate anche a fare fine tuning sull'accuratezza di queste cose c'è anche un write quindi potete dare delle frasi vostre da leggere poi da far leggere poi agli altri quindi common voice trovate questo progettino di Mozilla se volete contribuire e l'ultima cosa invece è un articolo tecnico scritto sul blog di Nvidia che spiega come mai le GPU sono oggi l'hardware più importante e sono così adatte a far girare l'operazione di AI più o meno ne abbiamo parlato sono operazioni matematiche che richiedono matrici moltiplicazioni cose su cui la CPU è meno performante mentre le GPU sono fatte apposta perché il calcolo di immagini 3D è proprio basato su questo e l'articolo è molto tecnico naturalmente se vi interessa il tema trovate sul blog di Nvidia si chiama Why GPUs are great for AI ho davvero chiuso grazie per avermi seguito credo di aver fatto una puntata lunghissima adesso taglierò qualcosina spero di non fare una cosa troppo lunga e tediosa però insomma c'erano un sacco di cose di cui parlare sull'AI oggi addirittura pensate che ho tolto una news che avevo messo inizialmente e non la recupererò più sappiate che volevo parlare anche un po' di che fine sta facendo che fine ha fatto XAI la start up mitologica di Elon Musk perché esiste XAI esiste ancora tra l'altro ricordate che la mission di XAI era tipo avanzare la conoscenza dell'universo boh una cosa così sta cercando dei fondi sta raccogliendo dei fondi ha lanciato un suo prodotto che si chiama Grok ed è un chatbot quindi apparentemente per avanzare la conoscenza dell'universo usiamo un chatbot ho finito ciao